Staremo a casa della nonna per un po'. Buonanotte. Notte. Niente ci tormenterà. Mai più. Riabbiamo nostro figlio. Siamo di nuovo una famiglia. REMA, REMA, PICCOLO KELLY KELLY! Sta' succedendo di nuovo? Che cosa? Dicci che cos'è che lei vuole. Ho sentito delle voci nel corridoio. Qualcosa non va con papà, mamma. Qualunque cosa perseguitasse la mia famiglia non ha finito con noi. So cos'è successo. Sono entrato in quel posto per riprendermi nostro figlio e qualcosa di malvagio mi ha seguito. RASCI DALA MIA TESTA! C'è qualcuno lì davanti a te. Ti sta parlando. Che sta dicendo? Hai il tuo bambino. Hai il tuo bambino. Hai il tuo bambino. Hai il tuo bambino! Hai il tuo bambino. 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 Hai il tuo bambino.